Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Il Regno dei Cieli è simile a dieci vergini Che prese le loro lampade uscirono incontro allo sposo Cinque di esse erano stolte e cinque sagge Le stolte presero le lampade ma non presero con sé olio Le sagge invece insieme alle lampade presero anche dell'olio in piccoli vasi Poiché lo sposo tardava si assupirono tutte e dormirono A mezzanotte si levò un grido Ecco lo sposo andategli incontro Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade E le stolte dissero alle sagge Dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono Ma le sagge risposero No, che non abbia a mancare per noi e per voi Andate piuttosto dai venditori e compratevene Ora, mentre quelli andavano per comprare l'olio Arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte E entrarono con lui alle nozze E la porta fu chiusa Più tardi arrivarono anche le altre vergini E incominciarono a dire Signore, signore, aprici Ma egli rispose In verità vi dico Non vi conosco Vegliate dunque Perché non sapete Né il giorno Né l'ora Parola del Signore Ci avviamo verso la conclusione dell'anno liturgico E quindi anche verso la conclusione della lettura del Vangelo di Matteo E leggiamo un po' gli ultimi capitoli Prima del grande racconto della Passione In questi ultimi capitoli Matteo Come anche gli altri evangelisti Ci invitano a guardare verso la fine del tempo La fine non solo la fine cronologica Ma anche verso il fine del tempo Cioè Cos'è che ci attende? Ecco Non ci attende solo il nulla Anzi Non ci attende solo la morte Ci attende un incontro Ci attende un abbraccio Ci attende un volto E allora in questa attesa Che ci separa da quell'incontro La parabola di oggi La parabola delle dieci vergini Che riprende una scena Comune Alla vita Diciamo Ebraica Del tempo di Gesù La scena di un matrimonio In cui lo sposo Accompagnato Dai suoi amici Celibi Andava a prendere la sposa A casa sua A sua volta Attorniata Dalle sue amiche Nubili Che al tempo Erano anche vergini Di solito Ecco perché si parla Delle dieci vergini C'è una sposa Che attende lo sposo Con le sue amiche E lo sposo Arriva di notte Anzi Tarda ad arrivare E queste ragazze Compresa la sposa Tutte quante Si addormentano Poi lo sposo A mezzanotte Arriva Arriva in piena notte Immaginiamoci Nel buio Totale Delle campagne O anche delle città Antiche Della Della Galilea E della Giudea Ecco immaginiamoci L'arrivo Di questo Di questo corteo Con le fiaccole Arriva lo sposo Con i suoi amici E le vergini E queste ragazze Si alzano Ma non tutte Hanno preso L'olio Per la loro lampada Ecco Che cos'è quest'olio Cos'è questa lampada E' stato interpretato In tanti modi Io credo che sia Si possono dare Sicuramente Anche altre definizioni L'olio dell'amore L'olio dell'attesa L'olio dell'attenzione Allo sposo Che viene L'olio della fede Che si mantiene viva Proprio nell'attesa Dell'incontro Nell'attesa Del bacio Con Cristo Ed è terribile Questa porta Che si chiude E la risposta Alle vergini Che bussano Signore Signore Aprici In verità Vi dico Io non vi conosco Vegliate dunque Che significa Vegliare Significa avere Il cuore pronto Avere il cuore pronto Non solo All'ultimo momento A quando il Signore Ci chiamerà Per il viaggio definitivo Ma avere il cuore pronto Vuol dire avere il cuore pronto A incontrarlo Oggi Ora Adesso Che ci viene incontro Nel volto Dei fratelli Nelle situazioni Che ci capitano Nelle intuizioni Del cuore Nella sua parola Nella natura Nei poveri In tanti modi Il Signore Ci viene incontro Lo riconosciamo? Abbiamo la lampada Accesa Abbiamo il cuore pronto Abbiamo il desiderio Di vedere Questo volto di Cristo Ecco Questo è l'atteggiamento Che ci invita Questa parabola Ravviviamo Con l'olio Della preghiera Con l'olio Della speranza Della fede Con l'olio Dell'amore Che davvero Desidera L'incontro Con l'amato Ravviviamo La nostra lampada E teniamola Accesa